Possesso Dalia, campagna avanti 2 a 0, Bruninho, buono core, Bruninho, grande futsal al pala Rinaldi, arriva anche il sigillo di Bruninho, 3 a 0, Dalia A metà del secondo tempo scappa via la formazione di Paul El A metà del secondo tempo scappa via la formazione di Bruninho, 3 a 0, Dalia A metà del secondo tempo scappa via la formazione di Bruninho, 3 a 0, Dalia A metà del secondo tempo scappa via la formazione di Bruninho, 3 a 0, Dalia A metà del secondo tempo scappa via la formazione di Bruninho, 3 a 0, Dalia A metà del secondo tempo scappa via la formazione di Bruninho, 3 a 0, Dalia A metà del secondo tempo scappa via la formazione di Bruninho, 3 a 0, Dalia A metà del secondo tempo scappa via la formazione di Bruninho, 3 a 0, Dalia A metà del secondo tempo scappa via la formazione di Bruninho, 3 a 0, Dalia